Facoltà, prego. Microfono, microfono. Grazie Presidente, oggi siamo qui su richiesta di Fratelli d'Italia per rendere trasparente un dibattito su uno strumento che noi riteniamo un veleno immesso nella economia e nella struttura sociale della nostra nazione. La maggioranza è specializzata in supercazzole. Ora io questo termine, conosco il termine però potrebbe evitare, grazie. Posso? Sì, lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo, prego. Io ho citato il Ministro Orlando e lei mi permetterà di ricordare che il Ministro Orlando in una trasmissione della Sette disse che la maggioranza che stava approvando il reddito di cittadinanza e quota 100 era esperta di supercazzole. Mi permetta di ricordare quindi un autorevole esponente di questo governo che usò questo termine che io non ritengo offensivo ma descrittivo di quello che è un atteggiamento che trasforma chi riteneva il reddito di una cittadinanza un modo per buttare i soldi dalla finestra, sempre parole del Ministro Orlando, e oggi ne riconosce il valore. Un Ministro, reinvierò al Ministro la trasmissione della Sette in cui ha proferito queste parole, ma ricorderà anche che il suo segretario di partito, il quale era vice segretario, Zingaretti, disse soldi e risorse non su questa pagliacciata del reddito di cittadinanza, ma sul rei, lo strumento che precedeva il reddito di cittadinanza in sostegno alla povertà. Renzi, altro esponente autorevole dell'allora Partito Democratico, sottolineò che questo era uno strumento che denunciava la distanza con le politiche della sinistra. Certo, se si cambia posizione e si passa in una poltrona garantita anche dal voto del Movimento 5 Stelle, le parole vengono edulcorate, ma certo stravolgere quello che è il proprio pensiero, non comprendere il proprio ruolo è una cosa che ci allarma del Ministro della ricerca del lavoro, non del lavoro. Ministro Orlando, nelle sue parole non c'è mai un'affermazione di quella che è la necessità in Italia per sconfiggere la povertà. Questa parola è lavoro. Lei dice e sostiene che il problema del reddito di cittadinanza insiste sulla incapacità di mettere in contatto l'occupabile con l'offerta di lavoro. Ecco, le voglio significare che in Italia manca l'offerta di lavoro, non sono gli uffici di collocamento il problema, il compianto, il professor Biaggi ricorderà, mise in condizione anche i privati di mettere in contatto l'offerta con la domanda. Ma la domanda c'è, manca l'offerta. E allora noi ci poniamo nella condizione di sostenere che è necessario in Italia richiamare il Parlamento italiano a investimenti che sostengono chi crea lavoro. E queste si chiamano imprese. L'indebolimento dell'economia italiana in questi anni, nei quali avete governato a lungo, è un fatto oggettivo. L'aumento della disoccupazione è un fatto oggettivo. L'aumento della povertà è un fatto oggettivo. E lo strumento immaginato per combatterla, anzi per sconfiggerla, per cancellarla, queste erano le enunciazioni del Movimento 5 Stelle, ha miseramente fallito nei suoi obiettivi centrali. Sulle politiche attive del lavoro, rispetto ai 3 milioni di percettori di reddito di cittadinanza, ce ne sono stati 152 mila che in tre anni, diciamo che riteniamo forse possibile che in tre anni su queste cifre possano essere persone che naturalmente avrebbero trovato lavoro, anzi forse ne avrebbero trovato di più se non ci fosse stato il reddito di cittadinanza, a un costo di 50 mila euro a posto di lavoro rispetto ai 25 mila euro che costa mediamente a un'impresa un occupato. Ora, il reddito di cittadinanza è veleno dal punto di vista economico. Perché? Perché distorce il mercato del lavoro. Mette in concorrenza il salario con la possibilità di ricevere una pari cifra senza lavorare. La gente semplicemente non ha convenienza a lavorare. E lo dico in relazione a dati oggettivi che richiamano gli stipendi nelle varie città d'Italia. Ne cito alcuni. Nelle aree del sud, a Napoli, un lavoratore del call center percepisce 583 euro mensili, in pratica pari a quello che viene percepito in media da un percettore del reddito di cittadinanza. Una segretaria, un segretario nel sud del Paese riceve mediamente tra gli 850 e i 738 euro mensili. Una situazione che mette in condizione di preferire ovviamente la possibilità di non andare a lavorare percependo una pari cifra, piuttosto che invece alzarsi la mattina, mettere la benzina sulla propria autovettura se la si possiede, oppure prendere un mezzo pubblico pagando l'abbonamento. Quindi restare a casa conviene. A Palermo, a Napoli, a Torino, un operaio percepisce 941 euro mensili. Tornerò su Torino. Altre azioni a tutela e a difesa di quelli che devono vedere aumentati gli stipendi. È oggettivo, lo state richiamando. Però buttate soldi nel reddito di cittadinanza invece di fare operazioni che mettono in condizione gli imprenditori anche di pagare meglio coloro che lavorano per loro. Ma ci sono anche cose più gravi, anche legate all'atteggiamento dell'Inps, che non riguarda quelli che lavorano per l'Inps. Persone per bene che hanno saputo fare i controlli anche in assenza di direttive che venissero dalla struttura. Si rende conto che il 14 ottobre di quest'anno l'Inps ha stabilito che l'assegno di 287 euro dato per 13 mensilità ai disabili con disabilità pari tra il 74 e il 99% veniva cancellato se il disabile faceva qualche giorno di lavoro, cosa che non accade per i percettori di reddito di cittadinanza. Un paradosso avere una cifra così bassa per i disabili e invece avere cifre di ben altra natura che vanno a chi invece potrebbe lavorare e non lavora. La nostra azione non è di attacco a chi percepisce un sostegno dallo Stato. C'è in tutte le nazioni, si sono proposte di legge di Fratelli d'Italia in questo senso, ma non in concorrenza con il lavoro, con il salario. Perché che cosa accade? Quello che è accaduto anche quest'estate, quando nel sud in particolare non si riuscivano a trovare camerieri, persone che erano disponibili a fare lavori stagionali negli stabilimenti balneari, persone che lavoravano all'interno di quelle strutture soffocate dalla pandemia che sono state messe in ginocchio da questo tipo di atteggiamento, oppure si trovavano lavoratori in nero. Vedete, sono tante le cifre che dovremmo citare, mi permetta qualche secondo, Presidente, che bisognerebbe citare la delinquenza che ha ricevuto in questi anni soldi buttati dalla finestra, lo diceva lei. 9.000 rumeni mai venuti in Italia sono riusciti a fregare ai cittadini italiani milioni e milioni di euro. E i controlli non ci sono stati adeguati se non grazie alle forze dell'ordine che hanno denunciato quello che abbiamo descritto. Chiudo, Presidente, perché potrei parlare a lungo e lascerò agli atti una relazione ben più ampia di quella che descrivo nel mio intervento, però mi permetta di chiudere su questo argomento, perché è un veleno, re di cittadinanza, dal punto di vista economico, ma ancora di più dal punto di vista culturale. Sono stato a trovare i lavoratori dell'Embrago con l'ottimo assessore Chiorino della regione Piemonte, ci hanno accolto nella loro tenda della solidarietà. Uno di loro mi ha detto una frase che mi ha colpito nel profondo. Dice, per noi lo stipendio è quasi pari a quello che recepiremo dal re di cittadinanza domani, ma chi lo racconta, mio figlio, che il padre quei soldi li porta a casa senza averli guadagnati, senza quella dignità del lavoro che richiamava Papa Francesco? Grazie. E allora vogliamo un'Italia che investa sulla produttività e del lavoro, non sull'assistenzialismo fino a se stesso, come avete fatto in questi anni. e questo è intervenire il deputato D'Alessandro, ne ha pagato il salto.